e riviusi a smr ciao a tutti come state? spero tutto bene oggi andremo a mangiare gli spaghetti molecolari siete pronti? 1,2,3 via questi sono spaghetti con acqua e colorante con un ingrediente speciale che prendono questa forma appunto di spaghetto e sono commestibili e restano interi sono anche buoni scusatemi le voci di sottofondo e ciò i vicini che stanno parlando guardate quanto sono belli ragazzi non sono meravigliosi ecco il gatto che ha aperto la porta ci siamo ci siamo ecco qua scusatemi allora vediamo più 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 allora per questo arrivo anche quelli scuri però vabbè ne mettiamo due o tre questi qua questi qua grigi grigio 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 avevo fatto anche quello grigio 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 ma volevo farli neri ma ho messo troppo poco colorante e quindi sono venuti grigi questi sembrano proprio fermetti sono bellissimi ecco qua spaghetto 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 bene ragazzi diamo subito a cominciare ma guardate come sono belli qui polcro ppppppppppppp Él signo grazie f spend s pes è che sono c Sì. Non c'è un piacere, non c'è un piacere, ma c'è un piacere da c'è un piacere. Buon appetito! Alla prossima. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Sì, è molto bello. Wow! E' un po' un po' un po' un po' un po' mi è stato angolo qua mi ha dato che è tutto questo bene ragazzi io vi ringrazio di aver visto questo video ci diamo appuntamento alla prossima ciao buona giornata